Ciao, anche a voi. Allora, ragazzi, quanti di voi fanno siti di mestiere qua? Eh, vedo io che avete le occhiaie. No, c'è una fila lì in mezzo e voi avete un po' più le occhiaie a Pornhub, secondo me. Allora, mi presento. Io sono Simone Baldassin, sono un webcoso, freelance, webcoso perché sono 13 anni che cerco di spiegare a mia madre che lavoro faccio, ma penso che questo sia un problema che avete anche voi, obiettivamente. Tengo corsi di formazione? Assolutamente sì, perché questa era una cosa più facile da spiegare a mia madre che mi dava del professor. Per chi è veneto, l'avete capito. Ho un canale su YouTube? Sì, non fico come quello di Andrea Marchetti, però dai, qualcosina facciamo. Allora, oggi sono qui per parlarvi di un plugin che sicuramente molti di voi che già fanno questo mestiere conoscete benissimo, ACF. Allora, ACF che cos'è? È un plugin freemium fondamentale per chiunque voglia sviluppare un WordPress senza appoggiarsi a Builder o comunque lavorando con Temi Custom o andando a migliorare quelle che sono le cose, magari che non si possono fare all'interno di un tema anche free che andate a scaricare. Allora, partirei andando a vedere un attimo i pro e i contro di questo plugin. Quanti di voi lo conoscono già? Ok, è tutto, grazie. Allora, i pro è un plugin, come ben sapete già, perché tanto lo usate tutti, abbiamo visto, estremamente intuitivo e versatile, quindi è qualcosa che possiamo utilizzare in maniera particolarmente semplice. E soprattutto, una cosa che non è di poco conto, a mio avviso, che comunque da un po' sgambetto su sto mondo qua, ha una documentazione tra le migliori che io abbia mai visto. È una documentazione fatta molto bene, già dal primo proprietario del plugin, che era un ragazzo australiano, che si chiamava Elliot, che poi ha venduto il plugin, però la sua documentazione è rimasta, è stata aggiornata ed è decisamente molto molto ben fatta. I contro. Ovviamente c'è una versione free, che non ha a disposizione tutta una serie di features importanti, ma vabbè, ce ne faremo una ragione, ma soprattutto per poterlo utilizzare è necessario avere competenze sul codice, o meglio, di quali competenze stiamo parlando sostanzialmente? Niente che sia impossibile da andare a avere e recuperare. Innanzitutto una buona base di HTML e CSS, perché dobbiamo andare comunque ad incastrare queste funzionalità all'interno dei template. Sicuramente ci serve una base propiedeutica di PHP, perché PHP, come dicevano nel primo speech, è morto, è sepolto, infatti ci serve una base propiedeutica per usare questo plugin all'interno dei template, ma soprattutto ci serve un'ottima conoscenza di quella che è la gerarchia dei template di WordPress. Perché se non sappiamo all'interno del tema dove andare a mettere le mani, ovviamente non possiamo andare a elaborare le soluzioni che ci servono. Quindi, a cosa ci serve esattamente ACF? ACF ci permette di gestire tutte quelle situazioni che non posso risolvere con Gutenberg, con i widget o con i campi personalizzati in attivi. Quindi possiamo fare tutta una serie di integrazioni molto molto utili, che mi permettono di limitare innanzitutto l'uso di altri plugin per ampliare le funzionali di atto il tema. Ad esempio ACF ci permette di creare dei blocchi Gutenberg custom completamente personalizzati. ACF però ci permette anche, e non è di poco conto, di creare dei back-end che siano estremamente friendly. Perché sapete, se avete visto il primo talk, avete visto che uno dei problemi più grandi che abbiamo è dare in mano degli strumenti troppo importanti a delle persone che poi li devono gestire e non hanno le competenze. Quindi in due minuti e mezzo vi disintegrano tutto il lavoro che è stato fatto. Quindi con ACF comunque possiamo costruire anche delle aree back-end che siano molto facili per gli utenti meno sgamati. Scrivi lì il titolo, non può uscire dal vasetto, la deve fare lì, ok? Cosa mi serve per iniziare a vedere un attimino il codice? Un caffè, sì, obiettivamente sì, perché non l'ho ancora preso. Un forno ventilato, anche perché così scaldiamo anche le brioche, dall'altro i dolcetti erano buonissimi, va detto. E un weekend pagato di una spa a 5 stelle. Questa cosa qua però me l'ha promessa Paolo Brotto. C'è Brotto? Dov'è Brotto? Ecco, siete tutti testimoni che lui che guadagna 500.000 euro all'anno con i siti web mi offrirà un weekend pagato perché siamo tutti stressati, avete l'occhiaio, l'abbiamo già detto prima. Allora, ci serve un sito WordPress su cui lavorare e quindi andiamo a lavorare su un'installazione locale di WordPress con ACF Free e il mio tema Free 6.6.s2 che potete scaricare dal repo. A livello pratico, ACF gestisce principalmente due funzioni. Abbiamo la funzione the underscore field che manda direttamente in stampa la risorsa, quindi è come un eco su una variabile e abbiamo la funzione get field che richiama la risorsa così che la possiamo poi invece riversare in una variabile di PHP o in una variabile JS per andare a gestirla come vogliamo. Allora, documentazione. Quello che voglio fare è banalmente andare semplicemente a recuperare all'interno della struttura la possibilità di andare a creare un titolo. So che è una banalità però di per sé molte volte non abbiamo questa opzione disponibile. Insomma, se io volessi scrivere i nostri eventi lì e mi dovessi sganciare potrei avere il problema che ha una certa lavoro con Gutenberg però da un'altra in poi da un'altra situazione in poi comunque vado magari a fare un loop personalizzato per chiamare l'anteprima insomma devo spezzare. sapete che Gutenberg la funzione decontent non la posso rompere in due quindi tiro fuori un pezzo e poi sotto comunque devo andare a elaborare il resto. Allora, per fare questo ci dobbiamo ovviamente andare ad installare ACF seguiamo un po' le istruzioni che sono spiegate molto bene nella documentazione poi gli diamo un'occhiata quindi se andiamo su ACF e possiamo creare un nuovo gruppo di campi in questo caso l'ho cambiato semplicemente on page e al suo interno possiamo andare a gestire tutte le situazioni di cui abbiamo bisogno. Qui è stato creato semplicemente un campo titolo come vi dicevo ma abbiamo a disposizione vedete tutta una serie di feature molto molto interessanti tra cui degli editor watch this watch you get delle aree di testo la gestione di file e compagnia bella e poi ovviamente tutta un'altra serie di funzionalità pro che comunque sono veramente veramente molto interessanti. La parte principale dopo che abbiamo creato il nostro campo è quella di andare a dirgli dove vogliamo che questo field questo nuovo campo venga mostrato in questo caso gli ho detto mostra questo campo in pagina quando questa è uguale alla pagina home dove volevo mostrare ovviamente questa risorsa. Se andiamo a vedere infatti nella struttura delle pagine e andiamo a vedere la modifica della nostra home page potremo trovare qua sotto il nostro campo personal si vede? Sì? Date finca se così non è. Vedete qui abbiamo la nostra scritta i nostri eventi possiamo anche mettere ovviamente un placeholder per aiutare il nostro cliente a capire un po' meglio questa cosa possiamo inserire un value in maniera che comunque ci sia già un testo predefinito che rendiamo magari obbligatorio e tutto quello che poi andiamo a recuperare lo possiamo trovare qui nella documentazione di ACF ACF documentation file types e nel nostro caso specifico abbiamo usato un campo di testo e vedete che tutto viene spiegato in maniera molto molto semplice quindi vi invito ovviamente ad andare a vedervi con calma la documentazione se deciderete di usare questo plugin allora qui qua detto questo beh queste sono tutte cose che già vi ho detto ACF ha inoltre un'ottima compatibilità e addons aggiuntivi per altri plugin molto diffusi come ad esempio WooCommerce e WPML quindi dettoci un po' di tutto vi permette inoltre di gestire la disposizione grafica degli elementi in back end creando a tutti gli effetti anche un compositore visivo molto semplice e intuitivo insomma vi potete fare un po' il back end come vi pare e piace vi lascio una serie di link al mio canale youtube dove potete fare giocare un po' con le versioni di ACF così potete gambettare un attimo e vedete un attimo se vi piace io faccio un grazie di cuore ai ragazzi e al team worker che siete stati veramente fighissimi grazie a tutti voi che avete partecipato e a Brotto che mi ha regalato il weekend 5 stelle grazie 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 a tutti